Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata avvertita in alcune città della campagna alle 9.44 del mattino di giovedì 19 gennaio. Secondo quanto rilevato dagli NGV il sisma sarebbe avvenuto in zona Campi Flegrei vicino Pozzuoli a una profondità di 3 km. Nessun danno a cose o persone. Grazie per la visione!